Inizia, tieni la sinistra su 30, tre destra, quattro sinistra, quattro sinistra lunga, apre 50, buona funzione. La lenta, tieni la sinistra su 50, tornante aperto non visto destra, in 5 sinistra molto lunga, in 6 destra, apre su crinale lunga, attenzione stringe 4, 5 sinistra, 50, tieni la destra, in 5 sinistra, in 3 destra, in 3 sinistra lunga, in 3 destra lunga, stringe 2 lunga, e 4 sinistra molto lunga, apre su crinale, stringe 3 lunga, stringe 50, 3 destra lunga, stringe, in 2 sinistra lunga, in 4 destra, in 4 sinistra, e attenzione 3 destra lunga, stringe, in 4 sinistra, apre 30, 3 destra, in 4 sinistra lunga, apre, stringe, tornante aperto sinistra, stringe, 4 destra lunga, stringe, tornante aperto destra, in 4 sinistra, in 5 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 sinistra In 4 destra lunga, stringe 3 lunga, apre lunga, stringe 80, tieni la destra su Grinale, in 5 sinistra lunga, stringe 80, attenzione 3 sinistra lunga, stringe, in 4 destra molto lunga, 80, 2 sinistra lunga, stringe, in 3 destra lunga, apre 50, 4 destra lunga, sottraguardo, tieni la sinistra su 30, Sponete i 20.2, attenzione, stelle LGTB以asion, fest sistema, articمة, degli sottraguardo, subito, rigmisza, massimo, rigoli, con questi sottraguardo, l'interr구co rigordinari, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.